Senti, ma tu oltre al volontariato che fai? Io mi occupo di coloro che soffrono, tu? Eh, io una cosa simile, pur io. Che cosa fai esattamente? Allora, praticamente io sono il capo di un'azienda che risolve problemi, però mi hanno detto che non posso dire tante cose perché è una cosa un po' segreta. Ok. Sono stata bene oggi. Anch'io. Aia. E la pietra, eh. Avviti qui? Sì. Wow, che posto. E la pietra. E la pietra. E la pietra. E la pietra.